Oggi ci sono state ordinanze per sei palazzine Ater, quattro a Collo Atterrato e due a Piano della Lenta per un totale di circa 120 persone, 56 nuclei familiari più o meno. Questo è un dato preoccupante perché i dati di cittadini sgomberati cresce in maniera vertiginosa, è molto preoccupante perché questo vuol dire che comunque i danni al patrimonio cittadino sono davvero tanti. Quindi insomma però voglio dire questo è, non è che si può fare nulla, bisogna soltanto accelerare i tempi delle verifiche e i tempi della ricostruzione così come Errani ci ha garantito. Ecco è stato accennato a questa titubanza, a questa preoccupazione dei cittadini che nelle ordinanze di sgombero ricevono 45 giorni dal comune per la messa in sicurezza, vogliamo chiarire questo aspetto? Ma è chiaro che un termine va dato perché se entro quel termine il cittadino non ha tempera l'amministrazione può decidere ove ci sia ovviamente pericolo per la pubblica incolumità di intervenire, di sostituirsi al cittadino. Se non fosse dato un termine non ci sarebbe definito il momento in cui interviene l'amministrazione comunale per il cittadino. Quindi è chiaro che quel termine c'è, ma se in questi 45 giorni il cittadino dovesse presentare richiesta di allungare quei tempi perché con delle motivazioni valide questo può essere tranquillamente fatto. Ma un termine deve essere dato, quel termine è un termine che diciamo aiuta anche l'amministrazione eventualmente ad intervenire in prima persona come per esempio faremo nei prossimi giorni per quanto riguarda il Campania e il Santo Spirito. Lei ha parlato anche di indicazioni che sono arrivate dalle verifiche di Errani e anche di Curcio per quanto riguarda la ricostruzione sulle scuole in particolare. Ha parlato del fatto che avrete pultre della vulnerabilità sismica media dello 08 per tutte le scuole e che gli interventi saranno fatti ma che è il momento delle scelte. Su quali edifici faranno ancora il compito di scuola? Questo è l'obiettivo del Governo e di Errani, fare sì che le nostre scuole raggiungano una vulnerabilità di 08. E' chiaro che per questo ci vorrà un minimo di tempo, però il Governo su questo è molto determinato, la priorità sono le scuole e si dovrà lavorare su quelle scuole che possono raggiungere quel grado di vulnerabilità. Altrimenti le scuole che non lo possono raggiungere dovranno essere dismesse. Ecco perché è un momento storico importante dove bisogna fare delle scelte importanti, in particolare sulle scuole ma non solo. E io ritengo che sia una buona strategia quella scelta del Commissario Errani e su questo lavoreremo.